Giorgia, dopo un lungo girovagare calcistico finalmente torni nella tua Verona e quali sono le tue impressioni dopo queste prime tre settimane di preparazione in generale? Qual è stato il tuo approccio col mondo Chievo-Verona-Valpe? Sì, diciamo che sono tornata a casa e sicuramente le prime impressioni sono ottime, sono molto contenta di essere qui, in queste settimane stiamo lavorando secondo me molto bene e adesso abbiamo avuto qualche giorno di riposo e dobbiamo riprendere sicuramente come abbiamo lasciato e quindi finora sono molto contenta. E come hai visto la squadra nelle prime uscite stagionali e in generale volevo chiederti che idea di gioco sta cercando di trasmettervi il mister Zucker? Ma direi che ci stiamo allenando molto bene e soprattutto il mister sta cercando di farci capire qual è la sua filosofia di gioco, il suo modo di gioco e quindi secondo me stiamo facendo molto bene. Nelle due amichevoli secondo me non abbiamo fatto assolutamente male, contro il Milan eravamo un po' sulle gambe ma penso che in preparazione sia più che normale e qualcosa di buono si è visto, sicuramente dovremo fare ancora meglio però appunto penso che giorno dopo giorno il mister stia cercando appunto di amalgamarci intanto perché siamo tanto nuove e poi appunto di farci capire come vuole giocare. Grazie per la visione! Grazie per la visione!